Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra lo scuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà. Devo andarmi da qui. La serie originale, il più grande mito fantascientifico di tutti i tempi, torna a vivere. È una scherza. Ai confini della realtà, da lunedì a giovedì alle 22.30 su Fox Retro.